Bentornati a Net Talk. Oggi ci buttiamo su un tema che è sulla bocca di tutti, la sicurezza dei dati in Italia. Di recente non si fa che parlare di fughe, notizie, attacchi informatici, insomma un po' di apprezzione. Vero, il caso di questa agenzia investigativa Equalizza Milano ha acceso i riflettori su un problema che in realtà covava già da un po'. L'idea che qualcuno possa curiosare nei nostri dati, beh, non è proprio rassicurante. Ma appunto, ma prima di farci prendere alla panico, forse è meglio fare un passo indietro, capire di cosa stiamo parlando. Certo. Queste sono queste banche dati strategiche di cui tutti parlano. Beh, sono in parole povere dei giganteschi archivi digitali che contengono informazioni cruciali per il funzionamento del paese. Pensate ad esempio al CIE d'Interforze, il cervellone del Ministero dell'Interno che raccoglie i dati per la sicurezza pubblica o al sistema di indagini usato dalle forze di polizia. Ma non solo, ci sono anche le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, l'anagrafia nazionale, gli MPS, il fascicolo sanitario elettronico. Insomma, un tesoro di informazioni ma anche un potenziale bersaglio per chi non ha buona intenzione. Ok, fin qui ci siamo. Ma com'è possibile che un'agenzia come Equalaze sia riuscita ad accedere a informazioni ridervate? Non dovrebbero esserci dei sistemi a prova di bomba? Certo, le misure di sicurezza ci sono e sono anche molto sofisticate. Pensate ad esempio al CIE d'Interforze, vi si accede solo da computer autorizzati connessi a una rete interna isolata da internet. Ogni operatore ha una password personale e ogni accesso viene registrato. Un sistema complesso, insomma, ma che purtroppo non è immune a quello che si chiama insider threat. Insider threat, cioè la minaccia che arriva dall'interno. Ah, quindi non si tratta solo di hacker che cercano di violare i sistemi dall'esterno. Esattamente, nel caso di Equalize si sospetta che alcuni funzionari infedeli abbiano fornito illegalmente informazione all'agenzia. Ed è qui che le cose si fanno complicate perché la tecnologia può essere sofisticata quanto si vuole, ma se c'è la complicità umana il rischio di una falla di sicurezza aumenta. Caspita è un po' come avere una porta blindata con la serratura migliore del mondo, ma poi lasciare le chiavi sotto lo zerbino. Eh sì, immaginare da ma rende bene l'idea. Eh già. E come se non bastasse dobbiamo fare conti con nuove minacce informatiche sempre più sofisticate come la prompt injection. Prompt injection. Una tecnica che sfrutta le debelezze dell'intelligenza artificiale. Prompt injection. Non l'avevo mai sentita. Puoi spiegarci meglio di cosa si tratta in modo che anche chi non è un esperto di informatica possa capire. Certo, immaginate un'email che sembra innocua ma che contiene un comando nascosto un po' come un virus camuffato. Quando l'email viene letta da un sistema di intelligenza artificiale, questo comando può indurlo a fare cose che non dovrebbe come rivelare informazioni riservate. È una tecnica subdola perché sfrutta la fiducia che riponiamo nell'intelligenza artificiale. Beh a questo punto mi viene da chiedere come possiamo proteggerci da queste minacce. C'è qualcosa che possiamo fare concretamente o dobbiamo rassegnarci all'idea che i nostri dati sono sempre a rischio? Assolutamente no. Non dobbiamo assolutamente rassegnarci. Ci sono diverse cose che possiamo fare per proteggere i nostri dati. Prima di tutto è fondamentale essere consapevoli dei rischi. Certo. Molti attacchi informatici sfruttano la nostra ingenuità, la nostra fretta nel cliccare su un link sospetto o l'abitudine di usare la stessa password per tutti gli account. Già, la classica password 1.2.3.4.2.6 è solo la data di nascita. Esatto, quindi prima regola password robuste, diverse per ogni servizio online. E poi attenzione al phishing, quei messaggi che sembrano provenire da una banca o da un ente governativo ma che in realtà sono trappole per rubare i nostri dati. Impariamo a riconoscerli, a controllare l'indirizzo del mittente e a non cliccare su links aspetti. Insomma, un po' di sarà diffidenza, non basta. Esatto. Ma oltre a queste precauzioni, diciamo, individuali, cosa si può fare a livello di sistema per rendere le banche dati strategiche più sicure? Beh, sicuramente è fondamentale investire in tecnologie di sicurezza all'avanguardia. Pensate ai sistemi di critografia, ai firewall, ai software di rilevamento delle intrusioni. Sono come degli scudi digitali che proteggono i nostri dati dagli attacchi. E chi si occupa di gestire questi sistemi? Servono esperti di sicurezza informatica, figure professionali sempre più richieste e con competenze specifiche. Non basta saper usare un computer, bisogna conoscere a fondo i sistemi operativi, le reti, i protocolli di sicurezza. Certo. Ed è fondamentale che questi esperti siano costantemente aggiornati perché il mondo della cyber security è in continua evoluzione. Quindi un po' come dei medici specializzati nella cura dei nostri dati. Esatto, ma la tecnologia da sola non basta. Serve anche un cambio di mentalità, una cultura della sicurezza che coinvolga tutti dall'istituzione ai singoli cittadini. Bisogna capire che la sicurezza dei dati è un bene comune, una responsabilità di tutti. Hai ragione, spesso si pensa che questi problemi riguardino solo gli esperti informatici o i grandi enti governativi. Eh già. Ma in realtà ognuno di noi può fare la sua parte per proteggere i propri dati e quelli degli altri. E assolutamente, ad esempio, segnalando alle autorità competenti eventuali attività sospette online. Facendo attenzione a non diffondere informazioni personali sui social media usando software antivirus aggiornati. Certo. Sono piccoli gesti che possono fare una grande differenza. Torniamo per un attimo a caso Equalize. Sì. Oltre le fale di sicurezza, questa vicenda ha salvato un altro problema inquietante, la compra e vendita di informazioni riservate. Ah sì. Sembra che ci sia un vero e proprio mercato nero dei gatti, un sottobosco dove si traffica con le nostre informazioni più sensibili. Purtroppo è così e questo dimostra che il problema non è solo tecnologico ma anche etico e sociale. Già. Bisogna rafforzare le leggi che puniscono chi ruba e commercia dati personali ma serve anche un'azione educativa. Per far capire alle persone il valore delle proprie informazioni e l'importanza di proteggerle. Insomma, non basta costruire muri digitali sempre più alti, bisogna anche lavorare sulla coscienza delle persone. Esatto. La sicurezza informatica è una sfida complessa che richiede un approccio multidisciplinare. Tecnologia, leggi etica, educazione sono tutti elementi essenziali per proteggere i nostri dati e costruire un futuro digitale più sicuro e affidabile. E a proposito di futuro, quali sono le sfide che ci attendono in questo campo? Cosa ci riserva il mondo della cyber security? Beh, le sfide sono tante e cambiano continuamente. E sì, gli hacker non stanno certo con le mani in mano, anzi sono sempre più bravi a trovare nuove vulnerabilità e a sfruttare le tecnologie emergenti. Una delle grandi sfide del futuro, ad esempio, sarà proteggere l'intelligenza artificiale stessa dagli attacchi. In che senso? Pensavo che l'intelligenza artificiale fosse uno strumento per aumentare la sicurezza, non una potenziale vittima. Hai ragione, l'intelligenza artificiale può essere un'arma potentissima nella lotta a cybercrime? Può analizzare enormi quantità di dati per individuare anomalie, bloccare attacchi in tempo reale, persino prevedere le mosse degli hacker. Ma come ogni tecnologia ha anche i suoi punti deboli. Ad esempio? Prendiamo la prompt injection di cui abbiamo parlato prima. È una tecnica che sfrutta le debolezze dell'intelligenza artificiale per manipolarla, per farle fare cose che non dovrebbe. E più l'intelligenza artificiale diventa sofisticata, più diventa un bersaglio appetibile per gli hacker. Capisco. Quindi, oltre a proteggere i nostri dati, dobbiamo anche proteggere gli strumenti che usiamo per proteggerli. Esattamente. È una sfida complessa che richiede un approccio olistico. Dobbiamo investire nella ricerca, sviluppare nuove tecnologie di sicurezza, formare esperti di intelligenza artificiale con competenze specifiche in cyber security. E soprattutto, dobbiamo promuovere una cultura della sicurezza che coinvolga tutti, dalle grandi aziende e singoli cittadini. Insomma, la sicurezza informatica non è un problema che si risolve una volta per tutte, ma un impegno costante, un processo di adattamento continuo alle nuove sfide. Ha eccolto nel segno ed è un impegno che riguarda tutti noi. Non possiamo delegare la sicurezza dei nostri dati solo agli esperti. Ognuno di noi deve fare la sua parte, informandosi e adottando comportamenti responsabili online, segnalando eventuali anomalie alle autorità competenti. In questo scenario, qual è il ruolo dell'Italia? Siamo attrezzati per affrontare queste sfide? L'Italia ha tutte le carte in regola. Per diventare un leader nella cyber security abbiamo centri di ricerca di eccellenza, aziende innovative, professionisti qualificati. E negli ultimi anni il governo ha dimostrato una crescente attenzione al tema investendo in infrastruttura, promuovendo la formazione, rafforzando la collaborazione internazionale. Quindi c'è motivo di essere ottimisti? Direi di sì certo la strada è ancora lunga, ma sono convinto che lavorando insieme con impegno e determinazione possiamo costruire un futuro digitale più sicuro per tutti. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di NetTalk dedicata alla sicurezza dei dati. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima.